Ciao ragazzi, eccoci qua alla seconda puntata di Schiera Sexy con Salute in Movimento. Anche oggi vediamo tre esercizi da fare per rinforzare, tonificare e rendere più belli i muscoli della nostra schiena. Il primo esercizio è un quattro zampe, ci posizioniamo a terra con il busto rivolto verso il basso, con un'apertura delle mani all'altezza delle spalle, l'apertura delle ginocchia all'altezza dell'osso dell'anca e partendo con la schiena perfettamente dritta e con gli addominali in precontrazione e quindi tenuti, andiamo a sollevare lentamente una gamba tenendola tesa e contemporaneamente sollevare da terra anche il braccio opposto, anche questo teso. Lo facciamo in maniera alternata, tenendo il più possibile durante tutto il periodo dell'espirazione sollevati i due arti e poi torniamo indietro. Per avere un risultato buono in questo esercizio è fondamentale cercare di tenere più ferma possibile la cornice costituita dalle spalle e dalle ossa dell'anca quindi tenere proprio il busto il più possibile fermo durante l'esecuzione dell'esercizio. Facciamo 10 ripetizioni in totale, quindi 5 da una parte e 5 dall'altra e poi ritorniamo e cambiamo esercizio. Il secondo esercizio viene eseguito pancia a terra, quindi praticamente nella stessa posizione di partenza dell'iper extension. In questo caso però le mani vengono posizionate lateralmente rispetto al capo e quando ci solleviamo da terra solleviamo soltanto, ci solleviamo a mezzo busto. Quindi mantenendo una contrazione dei glutei, pressando l'osso pelvico contro il pavimento, saliamo su e rimaniamo in appoggio sui gomiti. Quindi cercando di non stendere il collo per non sollecitare la cervicale ma rimanendo in una posizione il più possibile naturale e fisiologica. Anche qui facciamo inizialmente 5-6 ripetizioni per arrivare a 10 al massimo, perché comunque la contrazione viene tenuta anche qui durante tutto il periodo dell'espirazione. L'ultimo esercizio lo eseguiamo con l'aiuto di un elastico a banda oppure anche un elastico di quelli tubulari. Io ne uso qui uno a banda. Ci posizioniamo seduti con le gambe tese o leggermente piegate e mettendo l'elastico intorno ai piedi e afferrandolo con le braccia, spalle molto basse, schiena completamente tesa. Andiamo a iperestendere indietro le braccia per cercare di lavorarle soprattutto con i romboidi. Lo facciamo ispirando ed espirando dalle 5 alle 10 volte. Durante l'esecuzione dell'esercizio l'addome deve essere già precontratto e l'ombelico risucchiato verso la corona vertebrale. Quindi tutto il corpo è già piuttosto in tensione con le spalle e le scapole rilassate e tenute verso il basso. Spero che questi esercizi vi siano piaciuti e come ha fatto la nostra amica, se avete dei suggerimenti e delle parti del corpo che vi piacerebbe tonificare, quindi vedere degli esercizi proprio per queste parti del corpo, fatecelo sapere e commentateci e continuate a seguirci. Alla prossima, ciao e grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.